bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news di fortnite racchiuse in pochi minuti nel video di oggi parleremo di un sacco di dettagli che sono stati trovati nelle ultime ore parleremo del nuovo bazooka che è in lavorazione e che fa qualcosa di molto particolare ricorderemo ancora la nuova collaborazione con la data ufficiale dell'uscita dei ghostbusters e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è una buona notizia per quanto riguarda i prossimi aggiornamenti di fortnite questo mese è stato molto interessante perché abbiamo avuto un back to back vuol dire che per due settimane consecutive abbiamo avuto un downtime dei server e la patch o meglio abbiamo avuto due patch nell'arco dello stesso mese con un buco di una settimana abbiamo anche questa immagine che ci parla direttamente della patch 15.00 questo vuol dire la season 5 di fortnite siamo arrivati alla ventisettesima build quindi vuol dire l'hanno provato indicativamente 27 volte in via definitiva e hanno trovato qualche problema il che vuol dire che non dovrebbero esserci dei ritardi per quanto riguarda questa chiusura di season e la data giusta il 30 novembre se non ricordo male potrebbe venire rispettata e quindi andare direttamente in season 5 andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché una notizia che potrebbe anche risultare ininfluente ma è comunque curiosa l'azienda quibi quella che nel qualche mese fa fece una collaborazione con fortnite mostrando nel maxischermo di rapide rischiose alcune serie tv è fallita ragazzi è durata purtroppo solamente sei mesi poi non ha retto giustamente il confronto con le grandi aziende di promozione appunto delle serie tv dei canali come netflix e via dicendo e quindi purtroppo dopo sei mesi chiude un'azienda appena nata nonostante abbia collaborato con fortnite andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle informazioni riguardo la ltm air royale ne abbiamo parlato un pochettino qualche settimana fa sembrava che c'erano delle cose nuove visto che nei file di gioco erano state aggiornate aggiornate le cartelle dell'air royale chi non si ricordasse di che ltm sto parlando mi riferisco a quella che è arrivata in season 7 e che prevedeva di utilizzare gli aeroplani fin da subito una delle più belle ltm a cui ho giocato purtroppo ragazzi hanno nuovamente fatto degli aggiornamenti e la maggior parte di file dedicati alla air royale non sono più presenti questo potrebbe appunto voler dire che per un bel po non dovremo aspettarci nessun arrivo di nuovo degli aeroplani un peccato perché ci avevamo creduto e andiamo avanti a parlare della prossimo argomento di oggi si tratta della data di uscita del bundle dei ghostbusters e come leggete qua in alto the ghostbuster game gas free on epic games on october 29 fino al novembre 5 quindi si dice che ufficialmente il videogioco dei ghostbusters sarà disponibile in maniera gratuita nello store di epic games dal 29 ottobre fino al 5 novembre ed è molto probabile che quello sarà anche la data di uscita delle skin dei ghostbusters avrebbe assolutamente un sacco senso per chi non si fosse aggiornato su quello che stanno per fare hanno trovato anche degli archivi quindi delle legacy che ci confermano la prossima collaborazione e il nome è I collect spurs, molds and fungus ve lo ripeto è una citazione dal parte del primo film dei ghostbusters quindi una volta che l'avremo compiuta otterremo una legacy extra e poi nei file di gioco sono stati trovati anche tutti i file relativi al bundle quindi ghostbuster gear, ghostbuster crew e ghostbuster patrol e se ancora non fosse sufficiente questa cosa andando a campo merluzzo in basso nella mappa nella capanna troverete coperta la ecto 1 l'ecto 1 ragazzi è la macchina dei ghostbusters quella bianca con tutte le luci sopra quindi davvero tanta roba questa collaborazione dovremo aspettare il 29 per poter vedere le skin andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo è un altro topic davvero super interessante la fonte che propone queste tre stringhe è super affidabile e come leggiamo epic games sta lavorando su uno slurp bazooka già ne avevamo parlato qualcuno aveva già avanzato questa idea di una nuova arma e adesso sembra davvero che verrà portata in game quindi una specie di bazooka che appunto come vi ho appena detto sparerà della slurp tra l'altro sappiamo anche che c'è un oggetto che ancora non è stato rilasciato che si chiama fire extinguisher quindi un come si dice in italiano un estintore in poche parole il che potrebbe essere super utile qualora qualcuno ci facesse prendere fuoco le nostre strutture e poi noi potremmo ottenere the snowman che dovrebbe garantirci una quest non abbiamo ben capito se lo snowman quindi pupazzo di neve che arriverà sarà come quelli che siamo abituati a vedere durante il periodo invernale natalizio quest'anno torneranno senz'altro potrebbero portarsi anche delle sfide extra tra l'altro bellissima anche quest'altra informazione che ritorna un attimo a parlare del bazooka slurp avevamo già visto un progetto che è presente nei file di gioco ovviamente non pubblico che si chiama drill rocket ed è appunto una specie di modifica riguardante il nostro sparabende quindi quello che conosciamo ed è molto probabile ragazzi che sfrutteranno la meccanica dello sparabende per adattare questa nuova arma che non abbiamo ovviamente idea di come sarà ufficialmente e prima di salutarvi molto velocemente volevo dirvi che sembrerebbe che presto verrà rilasciata la skin madcap una delle ultime skin ancora inserite nei file di gioco e non rilasciate scoperte davvero mesi e mesi fa la skin madcap per chi non se la ricordasse è questa quindi il fungo come vedete con tanto di stile personalizzato arriverà prestissimo ce lo auguriamo anche lui corredato di quest che appunto potrebbero dare probabilmente punti esperienza aggiuntivi insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per aver guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi ai miei canali e noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao